Buonasera a tutti, anzi buonanotte, nel cuore della notte, ore 2.09, il maestro torna alla ribalta con un nuovo video che farà a scalpore, tutti i video che hanno fatto la storia. Allora, innanzitutto salutiamo quella merda di Karolu che ieri è entrata, avete visto come l'abbiamo combinata, pieno di parolacce, quella ogni volta che entra in questo canale subirà semi-invettivi in giuria fin quando scomparirà del turno. Ora voglio parlare di un bel argomento, allora io dico ai signori Juventini che secondo me siete troppo traumatizzati da questo fatto che sono 30 anni che non vincete la Coppa dei Campioni, che ogni volta che perde l'Italia, siccome quest'anno avete preso altri schiaffi in campionato, giustamente, e non sopportate che l'Inter vi abbia sbattuto lo scudetto in faccia, è la seconda stella, che ora che ne vogliate dire, non è la seconda, ma tanto arriverà pure il ventunesimo e il ventiduesimo, quindi è questione di tempo, vinceremo anche l'anno prossimo. Giustamente, non sapendo come giustificare i vostri fallimenti europei, a luce di un padre eterno, che fanno questi falliti juventini, o anche i milanisti? ieri l'Italia ha perso e si attaccano al fatto che nell'Italia ci sono quasi tutti italiani, quindi ieri praticamente è stato Spagna-Inter, Italia-Inter e l'Italia ha perso per colpa degli interisti. Allora, io per evitare stronzate, perché siccome ormai voi state avendo una crisi mistica, perché il cervello a voi, onestamente, non vi aiuta, avete dei problemi esistenziali. Io capisco che la generazione di adesso siete una massa di falliti, non lavorate, avete dei problemi, per l'amor di Dio, però quando dici di stronzate, prima di tutto, documentatevi, se l'Italia è riformata da quattro giocatori, praticamente, un perennemente di banchini d'Armiano, che è tenuto a andare, io ho scritto Barel, Frates e Di Marco, Barel, Frates, Di Marco, è bastone, Barel, Frates, Frates può mezzapartire, Barel, Frates, Di Marco e Bastone, sopra sette giocatori, quattro dell'Inter, italiani, cioè se fossero stati sette interese, e quattro dell'altra squadra, posso pure capire, quindi Donna Roma, Inter, Calafiori, Inter, Pellegrini, Inter, Cristante, subentrata, Inter, Scamacca, il nuovo Maradò, Inter, non è fatto un cazzo, però è sempre colpo dell'Inter, ora mi sembra l'Inter, lo scudetto è rimasto un trauma, è rimasto, non è rimasto, non è rimasto, non è rimasto, non è rimasto, che è rimasto a dire, chi è che è rimasto a fare la fascia, fammi capire, non mi ricordo di più, Donna Roma, Calafiori, Di Lorenzo, Inter, tutti gli interisti, tutti gli interisti, però tra i reti, Inter, quello là, quattro di Cristiano, non so, e poi vanno a mettere sempre, ma lì, l'Italia, quando c'era il blocco, io l'abbiamo vinto, ma che cazzo è vinto, è andato a strunzare questa qua, è vinto, ma come è vinto, 2006, di merdoni, in porto, chi diceva, si, che cazzo diceva, non mi ricordo di più, Barzaglio, Perl, Stavaglio, non mi ricordo di più, Camoranese, non mi ricordo di più, non mi ricordo di più, Camoranese, non mi ricordo di italiano qui, vabbè, hanno fatto che ero già oriondo, ma ormai viviamo nei tempi dove i signer dicono che è italiano, quando è piccata al mondo, è quello, signer e sommer, sommer e signer, sono italiani, ma cazzo che è quello di Svizzera, un cognome, quindi quello non è italiano, perché pure sommer potrebbe essere italiani, non so, no, ma quello di Svizzera è pure signer, non è italiano qui, signer e sommer, come cazzo fanno i cognomi italiani, signer e sommer, zinner e sommer, zimmer, non sono italiani, chiudiamo la parola, quando hai vinto nel 2006, che non si manca tu come hai vinto con il mondiale, tutti i gradi e 30.000 voti, perché poi, vittorie vostre, praticamente, sono paragonabili alla vostra squadra di club, squadra di merda nazionale del a me dice, ma quella ha vinto il mondiale, ma tu hai il Champions del 96, l'hai vinto durante la partita, no, l'hai vinto ai calci di rigore, quindi ne hai manca vinto, come l'hai vinto il mondiale del 2006, hai calci di rigore, e chi ha fatto con l'unico interesse che stai visto qua, perché se non era per quello, se non era per quello, manca Zidane sarebbe stato espulso, perché grazie a Materazzo dove hai paragito la partita, e grazie a Materazzo l'Italia hai potuto giocare, che Zidane che non ha battuto i calci di rigore, perché non ha vinto mai il mondiale da merda, perché poi, tra l'altro, l'IPI, sappiamo bene, richiamato dopo quattro anni, dopo il fallimento presunto di Donadoni, ritorna alla nazionale nel 2010 con lo stesso gruppo Juve che doveva fare sfracelli, fallisce clamorosamente in Sudafrica, e perde i gironi con la Slovacchia, però il nuovo gruppo Juve non esisteva, quindi fallimento sopra fallimento, quando invece è buono il gruppo Juve, però l'unico interesse che è il cazzo di niente che va a salvare la baracca, perché se no non insegnava mai la coppa non aveva in giro, praticamente, questo è l'interesse, Materazzo, questo blocco Juve, cazzo, l'Europa è tutta tre anni fa, blocco Juve è avvenuto, che cazzo è avvenuto? che stava Belotta, Berard, Donnarumma, che stava Pessina, che cazzo teneva, che Elena, Bonoccia, e chi? Tre, un rischio che stava, non mi ricordo che manca chiude, che questi tre o quattro Juve scarpino là, Belotta, Berard, chi stava là, dei scegli, ma non mi ricordo chiude, questi tre o quattro Juventino stava, e come l'evento? E calci di rigore pure qui, avessi vinto una coppa buona, c'è un gruppo Juve, tutto questo gruppo Juve, e vengono i mondiali e l'europeo, i calci di rigore, e ora l'Italia ha peso, gruppo Inter, tre Juventus, tre, quattro massimo, quattro, gruppo Inter, com'è il gruppo? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Lo capisco che trent'anni sono troppi, trent'anni per la coppa dei campionati, l'anno che viene 29 anni che non ha vinto la coppa, e non ha vinto neanche l'anno che viene, tra l'altro, quindi usateci che è l'unica cosa che non ti piace aggrappare la nazionale, buffone, l'unica cosa che poteva vincere la coppa di un mondo, che non si manca questo, perché l'Europa ha perso tutti i finali nel 2015, nel 2017, nel 2003, non ha vincito, non ha vincito praticamente. Quando è che questa nazionale ci faccia vedere che vince una cazzo di finale senza calci di rigore? Mai! Poi il gruppo Italia Juve con l'allenatore parruccano il vostro e poi ha perso i calci di rigore a Germania nel 2016, e stava per l'Eder, chi stava là, l'ucesse che faceva, non si chiamava, Zazza, non era da Juventus qui, gruppo Juve là, fallimento, Chiellino stava, la ferma, non era da calci della Germania, la gruppo Juve non si ricorda nessuno, però ha vinto poi, ma quando stava a mangiare dove stava questo gruppo Juve? Quale gruppo Juve? Mi ricordo una squadra di scarso, fortunata, che se lo ripete altre duecento volte, quella europea non lo vince mai. Certo, questa qua di adesso è più scarsa ancora di quella del 2021, ma non è che forse questa grande nazionale, quella là, 2021, un mazzo sfumato, è vero che quella a Spagna doveva uscire in semifinale, Barella, altra partita inguardabile, pure quella stava, mangi, calci di rigore con la Spagna, calci di rigore con l'Inghilterra, praticamente questa squadra se non ha i rigori non vince mai, tranne l'82 dove ci fu quel mondiale assurdo, vabbè, l'82 fu, lì c'era il blocco Juve, infatti quello fu l'unico mondiale che la gente si ricorda praticamente, l'unico mondiale vero, io tra i 15 anni e manco muro corno, quindi quelli dicevano, stava Zoff, Shirea, Cabrén, chi cazzo stava, Tardell, poi stava pure Altobel, Altobel, beh Altobel era l'intero stava, l'82, non mi ricordo, non mi sembra no, Bergo mi dicevano, vabbè, mi riblocco io, va a vendere, niente da dire su quella nazionale, Paolo Ross stava, ma questi due mondiali europei che hanno venduto l'Italia, a Spagna, fece 2008, 2010, 2012, mai ai rigori, sempre vinto durante, o quantomeno ai supplementati, questa squadraccia chiamata Italia, ve l'ho detto, io non la tifo più, però Spalletti mi è simpatico, che cosa ha fatto, ha vinto sempre ai calci di rigore, quella volta nel 2006, vabbè, fumazza così, che quel 3-6 che piglia la traversa, la palla a posto di fine sulla linea, se fosse andata dentro l'Italia non avrebbe vinto neanche quel mondiale, quindi quando hai vinto, tanto è vero, vince il mondiale dall'82 dopo 24 anni, 3 anni fa ha vinto dopo quando hai 48 anni, quest'anno andrà a casa, perché così è, mica poi vince sempre tutto l'anno, ogni 3 anni, quindi difficilmente la squadra che organizza lo vince, o difficilmente la squadra che lo vince due anni consecutivi, solo la Spagna ci è riuscito praticamente, solo la Spagna ci è riuscito, e quindi questo volevo dirci, quindi questo blocco inter che voi tenete sempre da stag, vi ha fatto male, questo scudetto, voi ne avete 29, tanto di cappè, ma questo scudetto secondo me vi è entrato nell'anima, vi è traslato con un singolo che non vi riesce più, vi ha fatto male, non so perché questo qua, perché forse era inaspettato, perché forse non riuscite a dimenticare, perché forse il vendese, che comunque se l'albo d'oro dice vieni, e tu non tini 36, non 38, pure se ti metti le stelle che non tini 38, io vengo insieme, ma sono 36, quindi non ti appartiene con quelli due là, ti hanno luogo e ti dici, questo scudetto vi aiuto da traversa, non gli capite perché, ma vi ha fatto male, molto male, e la sconfitta dell'Italia ieri, dopo quello che abbiamo letto, vi sta ancora facendo male, perché l'Inter vi sta ancora facendo soffrire, soffrite anche lì dall'Inter, ieri, tre io catturità lì, vado a fare mocca a chi ti è morto, vatti iscriviti al tuo canale e vado a fare un culo che stai scattando, vatti